Stanno per entrare qua dentro due numeri uno. Uno è una persona che ha scritto musica e che per 40 anni ha avuto una carriera incredibilmente alta di livello. Un'altra è una cantante di altissimo livello internazionale e che ha vinto a Sanremo. Sono Alexia e Mario Lavezzi. A Sanremo hanno cantato Biancaneve. Ben arrivati. Vedi, Vessicchio è contento oggi. Molto contento. Ok, prego. Azzurra come la felicità. La vita mia fa come una vela. Ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a metà. Questa mia mela tu sola puoi spostare, sai, il limite. Facendo diventare me un principe. E anche a neve voglio dirmi chi è, pensare che tu c'entra poco con me. Per se una strega mi sento semmai, se dici di più, non pensi che tu ma guarda questi occhi miei. Ti bruciano, senti queste maledie, ti insegnano. Giuro che ti mangerei, amore, se ti dimorerei, con molto gusto, amore. Giuro che ti abbraccerò, ti baci, ti soffucherò, non fatti via, amore. Senza te, senza te, senza te, senza te, ma non vado, amore. Giuro, non ti pentirai, di paradiso sono io, sì proprio io, la strega che vuoi. Meravigliosa strega che tu vuoi. Ehi, Biancaneve, che accade che fai? Ti piace di più essere strega? La grinta, grinta, mi piace così, col fuoco nel sangue, sarò la tua droga. Dimmi che però mi vuoi, nessuno di tu. Dimmi che non ce la fai, a vivere. Senza me, senza me, senza me, senza me, senza me. Ma dove vai, amore? Giù che ti abbraccerò, ti baci, ti soffucherò, non farti via, amore. Presto tu ti accorgerai, ti piangeremo, sei mai, come mi vuoi, amore. Giuro, non ti pentirai, il paradiso sono io, sì proprio io, amore è mio. Il paradiso sono io. Voglio amarti, semplicemente, semplicemente. Senza me, senza te, semplicemente. Da oggi poi, nei due, ti puoi tenere a mente. Senza me, senza me, senza me, senza me. Ma dove vado, amore? Giù, non ti pentirai, il paradiso sono io, sì proprio io, amore è mio. E il paradiso sono io, amore. Senza me, senza me, senza me, senza me, senza me, senza me. Oh, 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 oh. Grazie. Mario Lavezzi, Alexia, complimenti. Grazie di essere stati qui. È bello che Lavezzi per i suoi 40 anni di carriera abbia fatto un CD di grandi duetti e con grandissime artiste, questa è Alexia, per cui lo trovate nel suo CD, il pezzo, ma lo trovate anche nel CD di Alexia che esce in questi... Anzi, è in tutti i posti dove si comprano di acquistare. Grazie mille, è stato qui.